Il Consiglio di Amministrazione di UbiBanca ha nominato Cristian Fumagalli responsabile della macro area territoriale Lazio, Toscana e Umbria, succede a Silvano Manella che andrà in pensione. La nomina decorrerà dal prossimo 1 luglio. Il nuovo responsabile avrà il compito di guidare un'area strategica per la banca che comprende le regioni Lazio, Toscana e Umbria. Alla divisione fanno capo 8 direzioni territoriali, 244 sportelli e oltre 443.000 clienti. Gli impieghi alla clientela, cioè i crediti erogati a famiglie e imprese private sul territorio, ammontano oltre 11 miliardi di euro, mentre la ricchezza finanziaria è pari a oltre 10 miliardi. Il ciclo economico continua a restare incerto, sostiene Cristian Fumagalli, il nuovo responsabile, evidenziando opportunità e rischi per il territorio anche dipendenti dallo stato di salute del sistema produttivo. L'impegno del gruppo UbiBanca, prosegue Fumagalli, continuerà a essere nel segno della specializzazione, della qualità del servizio e della rapidità di decisione per sostenere adeguatamente la parte più dinamica e progettuale del mondo imprenditoriale locale. Per quanto attiene alle famiglie, la presenza di Ubi nell'area assicura prodotti di risparmio e investimento, oltre che soluzioni creditizie proprie di una grande banca dotata dai più moderni sistemi di servizio. Attivo nel gruppo UbiBanca dal 1994, Cristian Fumagalli ha ricoperto una serie di incarichi con responsabilità crescenti in ambito commerciale e detail.